Un'altra griffa italiana finisce nel mirino della trasmissione di Milena Gabbanelli e anche in questo caso lo scenario dipinto dall'inchiesta di Report non è propriamente idilliaco. La giornalista Sabrina Giannini già autrice del servizio su Moncler che tanto fece scalpore ha indagato e analizzato il sistema lavorativo che si cela dietro la grande maison Gucci intervistando l'artigiano Haroldo Guidotti che non ha avuto remore nel descrivere le cose come stanno. Il servizio di Report ha infatti mostrato come l'azienda si serva di lavoratori cinesi, assunti regolarmente con un contratto part-time ma impiegati in realtà anche fino a 14 ore al giorno. Mentre il web si indigna arriva prontamente la replica diretta della casa di moda attraverso un comunicato stampa. Gucci si dissocia nel modo più assoluto dai contenuti e dalla forma del servizio mandato in onda domenica 21 dicembre nell'ambito della trasmissione Report si legge. La signora Gabbanelli non ha mai posto a Gucci alcuna domanda pertinente su quanto da 5 mesi stava girando.